Stanotte è la Notte Rosa In tutti i Lidi e a Ravenna ci saranno grandi eventi e grandi festeggiamenti Vediamo se i ravennati sono pronti a divertirsi Ragazze cosa fate stasera per la Notte Rosa? Andiamo a Marina, ci divertiamo Abbiamo finito l'esame stamattina e quindi ce la spazziamo un po' Farò un giro con la mia amica qui al centro Ci vedremo, faremo un giro, vedremo i negozi Tranquille Andiamo a Marina di Ravenna a mangiare in un ristorante e poi in giro per i bagni Quindi così, itinerante Esatto Penso di andare a Riccione, a Marano per la precisione, all'Opera E quindi non festeggi qui a Ravenna? No E perché non qui? Così, per amici, abbiamo un gruppo che si hanno trovati là diciamo Marina di Ravenna, Peter Pan Tutta la notte lì? Penso di sì Che cosa fai questa sera, la Notte Rosa? Stasera devo ancora decidere, adesso penso che andrò verso Marina di Ravenna Insomma che lì c'è il solito casino come tutti gli anni dai Qualcosa troveremo da fare via Quindi locali, divertimento, insomma tutto da regolamento? Quello che si fa il venerdì alla fine è un venerdì come un altro Solo che c'è un po' più di gente dai Grazie a tutti Grazie.